Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta speck e noci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Ingredienti sono spaghetti, speck, grigli di noci, panna da cucina, latte, aglio, parmigiano grattugiato, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Andiamo via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le noci e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità a 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la panna, il latte, 10 grammi di olio e il parmigiano grattugiato. ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità a 3. Trasferire in una ciotola. Senza lavare il boccale mettiamo lo speck, l'aglio e i 20 grammi di olio. Ed azioniamo il bimbi per 8 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Togliere l'aglio. Aggiungere la crema di noci. il bimbi, il sale, il pepe ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Nel frattempo cuocere la pasta. La salsa è pronta, condiamo la pasta. Pasta specche e noci. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.